Se ne sta andando, quel figlio di puttana ha girato e torna indietro per la Cartes Road. Bene, seguilo, tagli indietro, lo bloccheremo. Dici dove vai, noi lo intensiamo. Tu pensa a seguirlo. Metcalf, vai. Enson, vai. Raggiungi la Cartes Road e vai in copia con Metcalf. Via, partite tutti. Muovetevi, muovetevi. Ci siamo. Vedi. Che sta succedendo, Ray? Vado più forte che posso. Accidenti. Forse ora ha già passato l'incrocio con la Meta Road. Dio solo sa dove sta andando. Se continua così, finisce quello aperto. Ehi, ora lo vedo. Sta in fondo alla mesa. Ray, qui Metcalf. Stiamo arrivando, siamo a circa due miglia. Lo teniamo. Si sta intrappolando da solo. Yahoo, forza ragazzi. Lo teniamo. Lo teniamo. Non ci sono più traverse. Non ci scappa più. Ray, non perderlo. È meglio che vi sbrighiate se vi volete divertire anche voi. Io sono quasi in cima. No. Oh. Cristo! Ehi, sta fermo! Ma che fai? Ehi, sta fermo!